Ma eccoci di nuovo con Enrico Stefano, Presidente Commissione dei Trasporti di Roma. Sì. Oh, perfetto, adesso senza rimbombo papale la sentiamo. Questa è una linea importante, cosa collega Presidente Stefano questo 51? Sì, la linea 51 è una linea fondamentale, perché collega le tre linee di metropolitana, tra l'altro nelle fermate più strategiche, in quelle centrali, e collega anche la rete trambiaria, oltre ovviamente all'altra rete di autobus molto importanti, l'85, l'87, chi si incontra la strada facendo. E' un'operazione, diciamo, intelligente che abbiamo fatto, che abbiamo avviato oggi e un po' rappresenta la nostra visione di città, ovvero una città dove il trasporto pubblico è il centro, dove al trasporto pubblico vengono dedicati gli spazi. Infatti, oltre ad aver inaugurato il 51x, questa è una linea che è stata rivista nel percorso e nelle fermate che sono state, lasciatemi dire, ottimizzate. Cioè, comunque, la distanza maggiore tra le fermate resta forse di 400 metri, quindi comunque delle distanze più che accettabili, insomma. E quindi è stato semplicemente ottimizzato il numero delle fermate, è stato modificato il percorso, ovviamente su una parte di questo nuovo percorso, che è il tratto di Emanuele Filiberto, è stata costruita una corsia, è stata realizzata una corsia preferenziale. Corsia preferenziale che, tra l'altro, nei prossimi mesi andremo anche a proteggere con degli appositi cordoli, che però abbiamo ritenuto, insomma, importante intanto avviare con l'obiettivo di proteggerla il più possibile. Quindi, mi sento di dire, è un passo importante, considerato che praticamente in termini effettivi è da appena cinque mesi che governiamo questa città. Insomma, è un passo importante perché l'ultima nuova corsia preferenziale risale a più di quattro anni fa, noi ne abbiamo fatta una in cinque mesi e soprattutto in termini concreti, perché questo significherà un risparmio di tempo per tutti i cittadini che prendono la mattina il 51 e sono parecchi, vuol dire un risparmio di anche dieci minuti per arrivare in centro, che non è poca cosa e poi ovviamente questo risparmio si ripercorre anche su Atac con un effettivamente del servizio e su chi porta gli auto. Certo, certo. Fermate intelligenti quindi per velocizzare e potenziare il collegamento tra il capolineo e la metro C Lodi, le linee metro A e B, le linee trambiarie 3 e 8, il centro storico di Roma. A proposito delle corsie preferenziali, io ricordo già in campagna elettorale è una sua, come dire, è uno dei suoi primi obiettivi, questo delle corsie preferenziali, Presidente. Stavo per dire una sua fissazione, ma non mi sembrava a caso. No, però lei ce l'ha come un complimento. No, no, fissazione politica e amministrativa. No, non è che lei da notte pensa alle corsie preferenziali. No, vi confesso che mi accadeva ogni tanto la notte di svegliarmi con qualche corsia preferenziale che sognavo. Saranno contenti i suoi cari di questo. Ma detto questo, si parte proprio con quello che ci aveva annunciato. Adesso volete proprio lavorare su questo punto, Presidente. Assolutamente, perché comunque vi confesso che le risorse sono quelle che sono. Ovviamente le corsie preferenziali hanno dei costi contenuti, però hanno dei ritorni enormi, perché appunto vi faccio un esempio di oggi. Il 51 praticamente Atac potrà garantire le stesse frequenze che garantiva fino a venerdì con due autobus in meno. Quindi oggi è come se avessimo, diciamo così, acquistato due nuovi autobus. Ovviamente se decidiamo di mantenere le frequenze, se decidiamo di migliorarle, ne beneficerà la linea. Quindi aumentare la velocità commerciale e rendere più veloci i mezzi è come acquistare dei nuovi autobus per Atac e per Atac riesce a fare quel servizio con meno mezzi. Quindi chiaramente questo si ripercuote anche a cascata su altre linee. L'ultima domanda Presidente, il prossimo obiettivo, la prossima cosa che farete, oltre a queste che abbiamo elencato, cosa c'è proprio vicino come progetto? Guardi, guardate, imminente c'è la corsia preferenzialica di Portonaccio. Anche questa è una corsia molto strategica che arriveremo nelle prossime settimane. Siamo in attesa del collaudo per i lavori che sono stati svolti sulla via Tiburtina, appunto all'altezza dell'incorso con via di Portonaccio non appena avremo i collaudi. Ci parla dell'ordine di settimane e apriremo anche lì la corsia preferenziale, la corsia preferenziale strategica perché lì transita una linea portante come 409 e anche lì si risparmieranno diversi minuti a beneficio degli utenti e dell'azienda. Presidente, mi raccomando, mi raccomando le periferie TPL perché le periferie sono in sofferenza sul trasporto pubblico. Mi raccomando, Presidente, sia dalla parte dei lavoratori che dei cittadini perché poi gli autisti... Guardi, giusto stasera abbiamo una riunione con l'azienda, con Roma TPL per verificare se e quanto gli avevamo sottolineato negli scorsi giorni sia stato effettivamente realizzato perché sapete che siamo molto determinati su questa vicenda e o Roma TPL rientra rapidamente nei canoni del servizio oppure saremo costretti a prendere decisioni drastiche ma ovviamente vorremmo evitarle. Quindi devo dire che nei giorni scorsi è stata ampia disporviata da parte dell'azienda di Roma TPL e appunto oggi pomeriggio alle 18 faremo un incontro e vedremo con loro i risultati. Buon lavoro Enrico Stefano, Presidente della Commissione Trasporti Comune di Roma. Grazie a lei, buona giornata.